dall'autrice del mega best seller amore zucchero e cannella il nuovo libro di emi bradley segreti bugie e cioccolato perché ci si mette pure il destino ora mai mi sarei aspettata aprendo la porta di casa di trovare il mio incasinato conto in sospeso di un metro e 90 in piedi sulla soglia di casa e dopo tre anni da quando lui iten aveva preso se n'era andato senza dire nulla scomparendo dalla mia vita per finire chissà dove però ora c'è joe no non merito uno come joe è troppo buono per stare con me e poi non puoi smettere di amare una persona dall'oggi al domani ma davvero non possiamo cambiare la strada che il destino ci mette di fronte forse sì segreti bugie e cioccolato di emi bradley newton compton editore